e ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video oggi siamo qui vi faccio vedere questo dvd il meglio di bond edizione 00 007 speciale e qua ci fa vedere la morte può attendere presto al cinema quindi questo è un dvd dovrà chiudere tutto il meglio dell'intera saga di jace bond fino al mondo non basta perché poi usciva la morte può attendere al cinema questo è l'immagine di copertina questo è ancora in telefonato quindi lo andiamo ad aprire insieme eccolo qua il meglio di jace bond qui abbiamo il retro la morte pote può attendere contiene materiale esclusivo una fantastica occasione per gustarsi gli elettrizzanti contenuti speciali abbiamo il dvd eccolo qua il meglio di jace bond e niente ragazzi se ti piace un mentale che da canale noi sempre ci vediamo nel prossimo video ciao a tutti belli